Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, oggi sono super emozionata, non so neanche come iniziare questo discorso, comunque inizio da qualche parte. Neve Cosmetics ha deciso di dedicarmi una pagina sul loro sito, lo so, è pazzesco, in cui ho inserito tutti i miei prodotti preferiti del brand, la pagina sarà attiva per due giorni, 17 e 18 novembre, ma soprattutto perché durante questi due giorni avete uno sconto del 25%, che è molto diverso dal solito 10% che vi posso offrire. Per usufruire del codice vi basta andare sulla mia pagina dedicata sul loro sito, vi lascio come sempre tutti i link a disposizione qui sotto, qui sopra, insomma nella descrizione del video a seconda di dove lo state guardando, ha una posizione diversa. Il codice da applicare è Julia Special ed è valido per il 17 e 18 novembre, attenzione perché se volete approfittare della promozione dovete un po' sbrigarvi perché attiva soltanto per due giorni. Dopo che ho sganciato questa notizia fantastica direi di procedere con il tutorial, adesso ci rilassiamo un pochino, realizziamo il trucco che mi vedete indossare adesso e vi parlo di alcuni dei prodotti che ho inserito all'interno, anzi di tutti praticamente i prodotti che ho inserito all'interno della mia pagina. Sono super contenta, quindi se volete vedere come ho realizzato questo trucco non vi resta che guardare il video ma comunque lasciatevi un po' di amore sotto questo video con un pollicione o un cuoricino oppure lasciatevi un commentino insomma per farmi sapere se vi piace questa iniziativa oppure no. Ho già applicato il fototinta e una matita sopracciglia, adesso passiamo al correttore perché ne ho veramente tanto bisogno, utilizzerò il ristretto concealer che è l'ultima uscita in casa Neve Cosmetics e ragazzi oh mio dio non so dirvi quanto è fantastico. Lo sto utilizzando praticamente quasi tutti i giorni da quando me l'hanno inviato, i colori che utilizzo sono due, il light, me lo vado a mettere sulle bollicine così perché è molto simile al mio colore di viso, ne metto giusto un puntino. Perché è molto molto coprente e non c'è bisogno di applicarne un quintale, lo vado a picchiettare con il dito in modo da coprire tutta la macchietta o la bollicina in questione. Mentre nella zona delle occhiaie e al centro del viso, qui sul mento e al centro della fronte, utilizzo il colore Fair che è il più chiaro di tutti i disponibili, lo metto anche sulla palpebra superiore perché mi andrà a fare da base per l'ombretto e poi mi aiuto con una spugnetta bagnata a sfumare il tutto. Questo correttore è super coprente, allo stesso tempo è sottilissimo che è la cosa forse che mi piace di più di tutte. Potete anche fare un doppio strato ma rimane veramente super super sottile nella zona del contorno occhi, non va ad appesantirla, non si va ad infilare nelle pieghette, rimane bello elastico per tutto il giorno, è veramente un prodotto fantastico. Se preferite potete usare anche il dito oppure andare con un pennello, personalmente mi piace di più la spugnetta. Prima di fissare la base con la cipria vado sia con la terra che con il blush in stick, questi qui nella versione in crema, utilizzo un pennello per andare a prelevarlo, se preferite potete anche andare così direttamente sul viso, personalmente mi trovo molto meglio ad utilizzare un pennello. E lo vado a stampare nella zona che voglio colorare, poi piano piano me lo sfumo intorno, così avrò un bel effetto abbronzato ma comunque naturale perché la terra in crema si fonderà perfettamente con il fondotinta di sotto, allo stesso tempo questa è facilissima da sfumare. I prodotti in crema sono veramente facilissimi da utilizzare, danno un effetto molto molto naturale e sicuramente più leggero rispetto a una polvere. Andiamo anche con il blush in crema, stesso pennello di prima ma adesso mi concentro più sulla zona qui delle gote e piano piano mi aiuta a sfumare tutto verso l'esterno. Vedete che inizialmente l'effetto sembra wow! Che cosa abbiamo messo sul viso e quanto ne abbiamo messo? Ma riprendiamo il pennello del fondotinta, aiutiamoci a sfumare un po' i bordi e voilà! Il nostro blush in crema è assolutamente perfetto. Un'altra cosa che mi piace moltissimo di questi prodotti è che si vedono attraverso la cipria, ci sono tantissimi prodotti in crema tipo terra e blush che voi li applicate, poi ci mettete sopra la cipria e spariscono. Invece questi vedrete tra pochissimo che andando ad applicarci anche la cipria sopra rimangono comunque belli intensi, quindi non c'è poi bisogno di andare a ripassarli anche con un altro prodotto in polvere. Fissiamo tutto il viso con una cipria, utilizzo la palette Powder Palace che ha tutte queste cipre di colori diversi e vado a prendere questi due, faccio un bel mix e vado a pressare la cipria su tutto il viso. Dato che non abbiamo bisogno di ripassare la terra ma allo stesso tempo voglio farvi vedere che potete utilizzare anche le cipre più scure al posto della terra, vado a fare un mix di queste due che sono quelle più scure e utilizzo il mio pennellone preferito per l'applicazione della terra che è questo qui. Ragazzi è pazzesco, lui è veramente fantastico, sapete che io ricerco da sempre il pennello perfetto per l'applicazione della terra e penso proprio di averlo trovato perché è fantastico, la forma è perfetta, le sitole sono morbidissime, sfuma e applica benissimo il prodotto senza fare macchia, è veramente tutto quello che cercavo e si può utilizzare ovviamente anche per l'applicazione, non lo so, se preferite del blush anche se è un pochino grande, oppure ci potete mettere la cipria su tutto il viso. Volevo farvi vedere anche un altro pennello che è veramente eccezionale ed è questo qui, è stato progettato per l'applicazione del blush, infatti potete usarlo tranquillamente per applicare il blush, ma la cosa per cui mi piace ancora di più è per l'applicazione del contouring perché vado ad applicare la terra per il contouring precisa in una zona ma allo stesso tempo l'applica sfumata, cioè non dovete fare fatica a sfumare il contouring, non dovete avere paura di fare delle righe troppo nette perché c'è lui che vi facilita tantissimo il gioco. Anche se abbiamo già applicato terra e blush in crema voglio comunque menzionare e andrò ad applicare anche il blush in polvere perché volevo mostrarvi questo che è fantastico. La cosa che mi piace di più è che contiene un po' di rosa e un po' di arancione, è praticamente quel blush che sta bene con tutto. Se non riuscite ad abbinare il colore del blush con il vostro trucco potreste provare questo perché ha quella punta di rosa che lo rende leggermente freddo ma non troppo che fa fare l'effetto grigio e un po' di arancione che lo rende leggermente pescato ma anche qui non troppo da farlo sembrare arancione. Sta bene veramente con qualsiasi trucco. Infatti ce ne ho anche altri che mi piacciono però dovendone scegliere uno ho voluto scegliere lui perché in assoluto il blush è più versatile. Penso che ho in tutta la mia collezione quando vado di fretta e non voglio stare lì a pensare oh mio dio come lo abbino, che cosa abbino, prendo lui perché sono sicura che ci starà bene. Sempre dalla palette delle ciprie ci andiamo a prendere l'illuminante, vado con questo qui. Io spero tantissimo che Neve Cosmetics in futuro faccia degli illuminanti in cialda di questa formulazione perché sono veramente veramente belli, naturali, non sono di quegli illuminanti effetto pala da discoteca o esagerati, sono molto facili da controllare ma allo stesso tempo vi danno un bellissimo effetto di zigomo luminoso e specchiato, assolutamente non glitterato che sapete è una cosa che a me non piace assolutamente degli illuminanti e potete applicarlo o soltanto sopra lo zigomo o andare direttamente su tutto lo zigomo per fare proprio questo effetto super luminoso, guardate che bello. Passiamo alle sopracciglia, non sono così le mie naturali, ho già applicato un po' di matita perché volevo iniziare questo video leggermente truccata, adesso vado ad ultimarle e utilizzo il gel per sopracciglia che è questo qui. Non so quanti ne ho finiti di questi, da quando è uscito l'ho sempre utilizzato perché è uno di quei gel fissanti, vedete allo scopolino così piccino, che va a fissare i peli ma senza incollarli, non vi va a fare l'effetto quello appiccicaticcio di peletti tutti attaccati alla pelle, ma comunque li tiene benissimo lì al loro posto e cosa che mi piace ancora di più va a colorare il pelo. Prima di passare al trucco occhi vero e proprio vado a mettere sulle labbra un lippino che è uno di quei balsami idratanti leggermente colorati, guardate che carino e questo che ho scelto io è leggermente rosato, lo potete usare o come balsamo idratante, normalmente è sempre comodo da avere in borsa ma allo stesso tempo vedete che vi colora leggermente le labbra e non le lascia completamente struccate, questa è un'ottima alternativa se non vi piace portare rossetti, ma comunque volete un tocco di colore che non sia appunto il rossetto. Oppure un'altra cosa per cui utilizzo questi lippini è quando vado a ritoccare il mio make up, avete presente a metà giornata quando avete il rossetto un po' scolorito, soprattutto al centro delle labbra, soprattutto dopo mangiato, ma comunque non volete andare a rimettere il rossetto perché magari le labbra sono leggermente secche. Prendete uno dei lippini che si abbina alla tonalità che indossate quel giorno sulle labbra, lo andate a mettere su tutte le labbra, quello che succede è che scioglie leggermente il rossetto o la matita che c'è al di sotto, la va a risfumare al centro delle labbra, danno un tocco di colore ma allo stesso tempo idratano, quindi non abbiamo tutte quelle pellicine che stanno lì un po' bruttarelle. Per questa promozione ho voluto inserire quattro delle loro pastello occhi ed è stato non difficile ma di più scegliere, ho fatto veramente una grandissima scrematura perché fosse stato per me le avrei inserite, veramente tutte sono delle matite fantastiche, morbidissime quando le applicate, il colore risulta bello pieno, sono super versatili perché potete metterle nell'occhio, solo all'attaccatura delle ciglia, potete usarle come base per l'ombretto, potete usarle come liner sfumato, insomma sono veramente tanto tanto versatili. Io ho scelto dei colori che secondo me vanno bene un po' per tutti e che si adattano un po' per le esigenze di tutti i giorni. Partiamo da caramello e cincillà, sono dei marroni di media intensità ma caramello è bello caldo, arancione, questo sta benissimo con gli occhi azzurri, verdi. Io ho scelto anche cincillà perché se invece volete un'alternativa di un marroncino più freddo, ma sempre di media intensità, ce l'avete. Oggi andrò ad utilizzare cincillà e me lo vado a mettere su tutta la palpebra come base per l'ombretto. Ricordatevi se decidete di applicare un prodotto cremoso su tutta la palpebra di non andare a mettere troppa cipria in quella zona, altrimenti diventa poi complicato sfumare una crema sopra a una polvere. E se vedete che la matita non risulta particolarmente scrivente, potete darle una temperata, perché è possibile che tenendola lì nel cassetto nel beauty dove la tenete, la mina si sia leggermente asciugata. Quindi date una leggerissima temperata e vedrete che la mina risulterà super super scrivente. Dopo aver riempito tutta la palpebra sfumo leggermente i bordi aiutandomi con il dito. Sempre la stessa matita ce la mettiamo anche all'attaccatura delle ciglia inferiori e sono sicura che voi sarete molto più bravi di me perché io lo specchio lontanissimo e quando faccio queste cose per cui mi devo riprendere, ma allo stesso tempo non riesco a vedere bene, ho sempre paura di cavarmi un occhio. Adesso pennellone da sfumatura e ci mettiamo un pizzico di questo marroncino qui e ce lo uniamo anche a un pizzico di questo marrone più scuro, battiamo bene l'eccesso e andiamo a scavare un po' la piega dell'occhio. Adesso con il polpastrello ci prendiamo questo marroncino brillante di media intensità e lo andiamo a pressare su tutta la palpebra mobile. Potete utilizzare questa tecnica, cioè applicare la matita molto simile al colore dell'ombretto che ci andate a mettere sopra. Se avete gli ombretti che non risultano particolarmente scriventi o anche se gli ombretti che avete non vi durano tanto sugli occhi, vedrete che utilizzando una base colorata del colore ovviamente simile a quello dell'ombretto dureranno molto di più e risulteranno belli intensi. Lo stesso marrone me lo prendo anche con un pennellino piccolo e lo vado a mettere all'attaccatura delle ciglia inferiori. Questo pennello è pazzesco per la parte inferiore dell'occhio o anche se volete magari sfumare la matita qui all'attaccatura delle ciglia ma comunque per fare dei lavori di precisione perché è morbidissimo, non gratta per nulla l'occhio, cosa che per me è fondamentale perché ho l'occhio talmente sensibile che se utilizzo un pennello che è leggermente ruvido con le sedole che pungono un pochino l'occhio mi inizia a lacrimare come una fontana invece questo è morbidissimo, bello compatto riesce veramente a pressare il colore in una zona piccolina. Adesso il dilemma è cosa metto sull'angolo interno dell'occhio perché vorrei farvi vedere due cosine quindi ve le faccio vedere entrambe ma forse utilizzerò la seconda. Prima di tutti volevo farvi vedere questo pennello che è perfetto per applicare l'ombrettino sull'angolo interno dell'occhio anche lui è bello compatto va proprio a depositare lì l'ombretto luminoso esattamente dove devi metterlo non lo fa svolazzare in giro lo applica bello preciso ma come quell'altro che vi ho fatto vedere adesso ha le sedole morbidissime e riesce ad applicare il prodotto concentrato ma senza fare delle linee troppo nette. Un'altra cosa che volevo mostrarvi e ci tenevo tantissimo ad inserire questo prodotto in questa promozione perché è molto particolare ma allo stesso tempo è quella piccolezza che cambia completamente il look è una matita che si chiama vedo non vedo che ha questo sottotono leggermente verdino questa matita la utilizzo tantissimo sull'angolo interno dell'occhio per andare a fare il punto luce perché rende subito l'occhio molto più aperto molto più brillante e facendo questa cosa che vi impiega due secondi riuscite veramente a trasformare il trucco inoltre questa matita se avete gli occhi castani marroncini o marroni scuri è perfetta perché avendo questo sottotono verdino ve li metterà tantissimo in evidenza io adesso ho gli occhi verdi ma comunque lo faccio perché mi piace moltissimo l'effetto che dà e come ultima matita occhio ho messo anche ebano che è uno di quei colori che assolutamente tutti dovremmo avere nel nostro beauty perché non è un nero ma è un marrone scurissimo io lo utilizzo all'attaccatura delle ciglia modi eyeliner anche qui dovrò farlo vicino allo specchio a telecamere spente perché altrimenti non riesco a farlo benissimo se la matita nera per voi è troppo pesante potreste optare per un marrone così scuro che risulta un pochino più naturale ma allo stesso tempo va a sottolineare lo sguardo adesso me la vado a mettere su tutta l'attaccatura delle ciglia superiori e poi mi faccio una piccola lineetta verso l'esterno come se fosse un eyeliner ma in realtà me lo faccio con la matita completiamo il trucco degli occhi con un bel po' di mascara l'ho già messo sulle ciglia inferiori utilizzo ovviamente il black bubble mascara che è uno dei miei preferiti di sempre l'ho consigliato a tutti e parlo anche di persone fuori dal web famiglia, amici veramente l'hanno comprato in tantissimi mi ci trovo benissimo mi piace un sacco mi vado a fare le mie solite 3-4 passate alternando mettendolo prima sull'occhio destro poi su quello sinistro e insomma facendo avanti e indietro per 3-4 volte per le labbra ho inserito 4 matite e 3 rossetti ed è stato non difficile ma di più scegliere sono stata credetemi un pomeriggio intero a sgocciarmi colori sulle braccia per capire che colori inserirei in questa promozione ve li farò vedere tutti applicati sulle labbra quindi non vi preoccupate datemi un secondo adesso metto il primo colore che è ballerina potevo non inserire ballerina il colore più fantastico del mondo eccolo qui indossato su tutte le labbra quanto mi piace questo colore da quando sono uscite le pastello labbra di neve cosmetics parliamo di anni fa lei è sempre con me nella mia borsa è uno di quei colori passepartout che sta bene con tutto e proprio per questo la porto sempre dietro con me perché se devo ritoccare le labbra e sono in giro qualsiasi trucco io abbia so che ci sta bene è molto simile al colore delle mie labbra è un nude rosato con il sottotono leggermente malva che forse è proprio quella cosa che lo rende molto molto particolare mi piace veramente veramente tanto io la indosso su tutte le labbra proprio al posto del rossetto ed è una cosa che faccio con tutte le pastello labbra di neve cosmetics se volete potete anche utilizzarla come base per il rossetto ad esempio se fossi a metà giornata o comunque durante la giornata sentissi il bisogno di reidratare un po' le labbra prenderei il mio lippino quello che vi ho fatto vedere prima e lo andrei a mettere sopra e prenderei questo effetto di labbra un pochino più morbide e idratate ma comunque con il colore bello pieno se invece volessi sempre un nude ma leggermente più aranciato andrei con Miele anche lui è uno di quei colori che ha con me da tantissimi anni anche lui penso che sia penso che Ballerina e Miele siano i primi colori che ho acquistato di queste matite questo è un po' a metà tra il rosino ma anche un bel po' di arancione come sottotono che lo rende comunque molto portabile ma un pochino più caldo rispetto a Ballerina che abbiamo visto prima che invece andava più sul malva ad esempio se avete le labbra molto pigmentate e cercate un colore nude forse Ballerina ve le ingrigisce leggermente potresti optare per una cosa del genere non potevo non inserire uno dei nuovi rossetti matt li avrei messi tutti perché sono fantasmagorici sono veramente bellissimi ho scelto però Meringata che è quello più nude molto facile da portare questo piace tantissimo anche a mia mamma è appunto un rossetto opaco ancora più arancione di miele e qui siamo un po' a metà invece tra l'arancione e il marroncino anche qui se avete delle labbra molto molto pigmentate e forse questo colore vi piacerà tantissimo proprio perché non ha questo rosa di base tende a non ingriggere per niente siamo più su una variante di nude medio chiaro comunque dalla base calda molto confortevole sulle labbra non va a seccarle anzi va ad idratarle non va per nulla a mettere in evidenza le pellicine ho messo ancora un altro nude ma questo è bello griggetto è tanto tanto malva dovendo fare una piccolissima selezione di colori ho voluto scegliere un sacco di nude per darvi la possibilità di scegliere di acquistare quei colori che poi realmente utilizzate tutti i giorni quelli proprio facili da portare così senza impegno e questo si chiama experiment l'ho detto malissimo però questo è il suo nome ed è appunto molto malva abbastanza griggetto mi piace tantissimo questo colore e l'ho scelto anche per abbinarlo a un rossetto che si chiama pain au chocolat anche qui l'ho detto malissimo io pregherei ai brand di non fare nomi in francese per evitare di fare queste figuracce però è un colore molto bello e è perfetto da abbinare sopra a questa matita almeno a me piace moltissimo abbinarli il rossetto è leggermente più marroncino ma secondo me con questa matita ci sta veramente tanto tanto bene ed ecco qui anche lo swatch del rossetto singolo ovviamente potete prenderlo singolarmente e abbinarlo alle matite che più preferite semplicemente ho fatto questo abbinamento per darvi anche la possibilità di acquistare due prodotti che stanno bene insieme volendo potete metterlo anche abbinato a ballerina e questi sono matita e rossetto insieme lo so che alcuni di voi stavano pensando ma solo nude hai messo? no non ho messo solo nude ho inserito anche questo bellissimo rosso qui parliamo della matita questo è nel colore blood che è penso il rosso più bello secondo me tra tutti i colori di neve cosmetics mi piace tantissimo perché da questo effetto di labbra un po' effetto biancaneve in contrasto con la mia pelle così tanto chiara molto facile da portare rispetto a dei rossi che sono un pochino più sflescianti un pochino più evidenti e poi ci stiamo avvicinando al periodo dei rossetti rossi quindi dovete assolutamente indossarlo mi raccomando vi vengo a controllare e mi piace tantissimo anche perché è uno di quei rossi che fa sembrare i denti più bianchi ce ne sono tanti invece quelli a base più arancione che li fanno sembrare più gialli e sono stata brava perché vi ho fatto il match anche qui ho abbinato la matita insieme al rossetto che si chiama chocolate eclair meno male che questo era un nome semplice da dire questi due stanno benissimo insieme ve li metto anche ravvicinati qui sulla mano eccoli qui questa è la matita e questo è il rossetto vedete che la matita è leggermente più fredda a base blu invece la matita ha un pizzico di arancione ma non troppo anche qui che fa sembrare il rossetto bello evidente chiaro che per tanti è difficile da indossare questa è la combinazione perfetta ed ecco qui matita più rossetto rosso abbinati insieme anche qui potete anche indossarli separatamente o abbinati ad altri rossetti o ad altre matite insomma se preferite secondo me ci stanno benissimo insieme eccoli anche tutti messi vicino così almeno vedete per bene le differenze se non riuscivate a vederle così da indossati abbiamo per primo ballerina poi miele poi experiment spero che dal video si veda la differenza tra questi due questo è molto più freddo più malva rispetto a ballerina che è più rosato poi la matita blood questo è il rossetto meringata che sta benissimo anche con la matita miele poi c'è il rossetto dal nome impronunciabile panna o cioccolè non lo so e poi c'è il rossetto rosso chocolate eclair siamo arrivati alla fine di questo video io spero tanto che il trucco vi sia piaciuto spero che vi piacerà questa promozione ricordatevi che dura soltanto 17 e 18 novembre quindi se volete approfittarne dovete assolutamente sbrigarvi non posso fare nient'altro che ringraziarvi per aver guardato questo video se vi è piaciuto se vi è tenuto compagnia ricordatevi di lasciarmi un po' di amore con un pollicione all'insù un cuoricino oppure iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto io vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo prestissimissimissimo nel prossimo video ciao ciao